Il mio più cordiale bentrovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia, il talk che approfondisce i fatti che riguardano la Sicilia e non soltanto tutto ciò che riguarda la cronaca, la politica, ogni aspetto che può essere di interesse per i siciliani e siamo nell'ambito delle nostre trasmissioni che guardano al futuro di Palermo oggi è il nostro ospite l'assessore comunale Giampiero Cannella buonasera, grazie per essere qui con noi, assessore Cannella buonasera, grazie a voi dell'invito e buonasera a tutti gli spettatori come sempre quando parliamo di comune di Palermo, alla mia sinistra c'è Pietro Minardi il collega che segue le vicende comunali di Palermo per Blog Sicilia buonasera Pietro, grazie a te buonasera al direttore, buonasera all'assessore, grazie per aver accettato l'invito buonasera a tutti bene, naturalmente ed evidentemente il primo argomento che affrontiamo con l'assessore Cannella nei giorni di dicembre, quale è, essendo l'assessore ottenuto alla cultura gli eventi di Natale, assessore, dunque abbiamo visto intanto che il 7 si è acceso l'albero non è niente di eccezionale, però forse a Palermo non avere qualcosa di eccezionale ma qualcosa di normale già è un risultato abbiamo visto l'albero acceso, abbiamo visto un po' di luminaria, un po' di atmosfera natalizia però che cosa ci sarà a Natale, che cosa ci sarà a Capodanno, cosa ci può anticipare? allora, l'albero si è acceso puntualmente, sembra un grosso successo in realtà speriamo, diciamo, di aver significato il ritorno alla normalità di questa città si sono accese parte delle luminarie, perché il centro cittadino sarà interamente illuminato con un cronoprogramma che è stato dettato un po' da esigenze tecniche nel senso che lo smontaggio del villaggio di Coldiretti ha dovuto far riprogrammare l'accensione di Via Ruggero VII ed esigenze di scena della produzione dei leoni di Sicilia ha in qualche modo condizionato quella che è l'illuminazione del Cassaro comunque entro, diciamo, inizio della prossima settimana il centro sarà tutto illuminato ma la novità di quest'anno è nel duplice tema che abbiamo scelto per questo Natale il tema della luce, non soltanto appunto in senso energetico quindi l'illuminazione dell'albero e delle luminarie ma la luce che rischiara le ombre che in questo momento stanno un po' attanagliando i nostri animi le ombre della guerra, le ombre della crisi le ombre appunto è anche della crisi energetica le ombre che nella nostra Palermo, nella nostra terra esistono sempre le ombre del malaffare, le ombre della criminalità, dell'intolleranza quindi in qualche modo è un Natale che vuole invertire la tendenza anche psicologica anche emotiva dei palermitani è la luce che arriva sulla terra con la nascita di Gesù in qualche modo, quindi religiosamente anche laicamente diventa la luce che induce all'ottimismo e alla ripresa l'altro tema importante è Santa Rosalia che è apparentemente svincolata da questo Natale in realtà noi abbiamo voluto collegare due temi perché recuperiamo una visione religiosa del Natale e Santa Rosalia che nel 2024 festeggerà il 400esimo festino quindi sarà un evento al quale vogliamo dare un rilievo internazionale perché può diventare un fatto molto importante anche di promozione turistica per la nostra città oltre che religiosa voglio ricordare che, scusa l'interruzione la storia, che in passato in alcuni momenti lo è stato il festino di Santa Rosalia un grande evento internazionale a prescindere da quale fosse l'amministrazione bisogna riconoscere che lo è stato assolutamente sì, ovviamente il 400esimo è una data, come dire, simbolicamente significativa quindi il 400esimo deve essere qualcosa di più rispetto a tutti gli altri festini ma soprattutto deve essere qualcosa venduta, fra virgolette, all'estero non soltanto per il 14 e il 15 di luglio ma deve essere tutto un anno nel quale si consacra la città a Santa Rosalia con, anche in questo caso, i riflettori puntati le luci su tutto quello che di bello la nostra città può offrire sia in termini turistici che in termini antropologici di interesse appunto antropologico quindi noi vogliamo arrivare al 400esimo con Santa Rosalia presente a Palermo tra i palermitani a festeggiare sia le feste religiose più importanti quindi il Natale e la Pasqua sia alcune date che stiamo individuando significative nella storia di Santa Rosalia quindi un crescendo che deve portarci al 400esimo stimolando un po' l'attenzione, l'interesse e la curiosità non soltanto dei palermitani ma anche dei turisti attorno alla Santuzza che è, ma può diventare ancora di più un brand fondamentale sul piano internazionale per identificare Palermo è un po' un filo conduttore che è partito perché ricordiamo il primo evento con cui si è confrontato la giunta la galla è stato proprio il festino di Santa Rosalia un festino organizzato, mi passate il termine in fretta e furia perché così è stato fondamentalmente è tutto sommato riuscito e che ha lanciato quello che è un po' l'idillio, i fiori d'arancio fra questa giunta e il comune di Palermo e i cittadini palermitani un idillio però che non potrà durare più di tanto ma certamente intanto quel festino ha inaugurato una metodologia che abbiamo utilizzato anche adesso per il Natale perché in assenza di risorse allora perché eravamo appena arrivati adesso perché il bilancio non è stato ancora approvato dal Consiglio Comunale abbiamo coprodotto con la città di Palermo sia appunto il festino che questo Natale quindi noi siamo stati attenti a mettere intorno a un tavolo a fare da regia tutte le realtà economico-produttive le realtà istituzionali, culturali le aziende che in qualche modo hanno partecipato fattivamente ma anche con risorse, idee e attività concreta alla realizzazione quanto del festino quanto di questo Natale quindi è una metodologia di coinvolgimento della città di cui l'amministrazione comunale il mio assessorato diventa cabina di regia fattiva rispetto a una serie di iniziative che nascono appunto dal confronto con la città e quindi quel festino seppur in fretta e furia non c'era neanche la Giunta non c'ero neanche io nel senso che c'era soltanto il professore Lagalla ne ho eletto sindaco quel festino è riuscito molto bene nonostante i tempi ristretti e l'eseguità delle risorse e credo che questo Natale avrà uguale successo soprattutto perché in qualche modo si percepisce la genuinità e la voglia di dare ai palermitani un momento di serenità e di svago Pietro diciamo che per l'organizzazione di questo Natale c'è stato questo tavolo tecnico fra i vari assessorati diciamo un esperimento che si è riproposto anche in altre occasioni Palermo ha sicuramente un patrimonio artistico culturale, storico, enorme citato anche dall'assessore Carta nella precedente puntata in cui è stato qui presente è un esperimento che si riproporrà anche in altre occasioni soprattutto a sfondo turistico è una cosa che si limita solamente ai grandi eventi questo diciamo questo tavolo tecnico fra i vari assessorati allora si dice che abbiamo fatto di necessità virtù però in questo caso abbiamo tratto un'importante esperienza da questa iniziativa faccio una premessa questa giunta che ovviamente raccoglie esponenti di varie provenienze politiche e culture è comunque una giunta che si caratterizza per una grande coesione e una grande capacità di dialogo tra i singoli componenti ovviamente ottimamente diretta dal sindaco quindi c'è una interdisciplinarietà che ci coinvolge tutti la possibilità di creare dei tavoli tecnici su singoli eventi ma anche su iniziative che possono essere iniziative stabili è una cosa assolutamente fisiologica quindi si riproporrà nelle occasioni in cui sarà necessario o sarà opportuno mettere insieme l'assessore alla cultura l'assessore al turismo l'assessore alla città storica piuttosto che l'attività produttive che poi sono quegli elementi che più si collegano per offrire ai cittadini o ai turisti un'offerta culturale importante è un po' il metodo della conferenza dei servizi che è anche prevista da tutte le leggi che fondamentalmente ci permette vi permette di scavalcare i passaggi di carta da un'assessorata all'altro e accorciare i tempi nella realizzazione delle cose questo è un sistema che poi esteva utilizzato non soltanto per gli eventi ma anche per fare delle cose fondamentalmente concretamente o sbaglio? no assolutamente infatti la stiamo mettendo in atto per alcune delle iniziative che il mio assessorato intende porre in essere faccio due o tre esempi così prevengo alcune vostre domande mi sto occupando della riapertura alla fruizione agli eventi della Galeria d'Arte Moderna cosa che sarà inaugurata peraltro con la luce vero? con la luce anche qua con la luce come avete visto le lampadine le ho quasi fisicamente messe beh ricordiamo la battuta fatta con l'assessore e ricordiamo che è successo in buona sostanza che alla Galeria d'Arte Moderna c'è stato un momento in cui per fare una visita si doveva andare con il cellulare acceso con la lampadina perché mancavano proprio le lampadine va bene il caro bollette ma non per questo scherzi a parte questi sono eventi che evidentemente si ricordano ma andiamo avanti per fortuna è passato quello è stato un fatto come dire occasionale dovuto al fatto che c'è una obsolescenza del sistema di illuminazione che sarà comunque cambiato e ristrutturato in primavera e no ci sarà quindi ci saranno degli eventi che riapriranno la gamma alla fruizione soprattutto a eventi di natura internazionale importanti dopo le feste sicuramente ci sarà una mostra fotografica di un grandissimo artista che non voglio spoilerare però diciamo resterete come dire sorpresi e soddisfatti e in questo caso ho dovuto chiaramente dialogare con Città Storica ci saranno anche alcune iniziative che prevedono la riapertura anche là il rilancio di teatri come il Teatro Garibaldi e il Teatro Montevergini anche lì c'è un dialogo apertissimo con Città Storica perché chiaramente molti interventi sono interventi strutturali che necessitano di passaggi che stiamo cercando insieme al collega carta di come dire minimizzare soprattutto di velocizzare al massimo altra iniziativa che ho in cantiere è quella di riportare il grande pubblico a Palazzo Zino che ha un problema di agibilità cioè attualmente non esiste una via di fuga secondo le nuove normative e questo ci impedisce di far fruire la splendida collezione di Gessi la Gipsoteca a più di nove persone per volta chiaramente diventa complicato organizzare una mostra dovendo centellinare gli ingressi quindi ci stiamo ponendo il tema e stiamo cercando di risolverlo in qualche modo con Maurizio Carta ma anche con la soprintendenza perché occorre realizzare una via di fuga che consenta a quello splendido palazzo a quella splendida collezione ma anche a un'ala che consente l'allestimento di mostre molto interessanti di poter essere fruito da palermitani in massa Assessore a proposito di città storico questo che abbiamo citato ci sono due casi diciamo in particolare che mi vengono alla mente uno che è stato recentemente affrontato nel piano triennale delle opere pubbliche che è Baglio Mercadante diciamo una struttura che a livello patrimoniale potrebbe essere anche utilizzata a sfondo culturale ma che è ferma fondamentalmente credo dal 2016 se non mi sbaglio dal 2018 ora non ricordo bene e l'altro è Baglio Scorza Denaro che è una struttura che per chi non lo sapesse che è accanto allo svincolo di Ernesto Basile e che rischia di dover in parte saltare perché il suo percorso intreccia con quello del tram volevo capire se l'amministrazione aveva diciamo che intenzione aveva relativamente a questi beni e se c'è un progetto di recupero di riqualificazione guardi nello specifico non sono titolato a risponderle perché non è una mia competenza posso dirle che insieme al sindaco e ai tecnici abbiamo fatto una serie di riunioni a proposito di interdisciplinarietà alle quali hanno partecipato appunto il collega Cartel collega Forzinetti e altri colleghi interessati per competenza abbiamo verificato tutta una serie il collega Mineo che ha il patrimonio tutta una serie di luoghi che sono luoghi come dire interessantissimi per la città di Palermo ma che necessitano di interventi particolari i due che ha citato sono tra questi abbiamo degli splendidi conventi in pieno centro che necessitano di una ristrutturazione di una destinazione quindi posso dire che il sindaco ha messo in cantiere una serie di iniziative e di progetti che purtroppo lo dico purtroppo per chi amministra in questo momento ne augureranno altri ma il compito di chi amministra è non soltanto pensare alla promozione della propria persona della propria immagine ma se diciamo amministra nell'interesse dei cittadini è quella di pensare alla prospettiva a prescindere da chi taglierà il nastro ecco Palermo verso il suo futuro è quello che è il titolo che abbiamo andato a tutta questa serie di trasmissioni proprio in questa visione proprio dicendo secondo questo principio perché chi amministra deve avere la lungimiranza di pensare al domani di pensare al medio termine ma di pensare anche nel lungo termine anche se non sarà lui stesso personalmente a inaugurare poi l'opera non ci sono opere di grandi dimensioni che si possono realizzare in tempi abbastanza brevi quindi significherebbe poi avere il respiro corto un'amministrazione che non guarda il futuro avrebbe il respiro corto anche quella che la domanda che sto per fare non è esattamente nelle sue competenze assessore però occupandosi di cultura e occupandosi di eventi c'è il ritorno dei grandi eventi a Palermo ed è segnato da un evento in particolare almeno da un punto di vista mediatico che è quello il concerto di Vasco Rossi che tutti ci auguriamo sia soltanto il primo di una serie di eventi che tornano ma ci sono già dei problemi penso che questo ne abbiate anche parlato in giunta delle soluzioni che bisogna trovare no per la verità non abbiamo avuto ancora tempo di parlare nel senso che non c'è stata aggiunta dopo dopo che ha scoperto il problema ma il tema è risolvibile ovviamente e attiene ai rapporti della convenzione tra la Palermo Calcio e l'amministrazione comunale di Palermo nel senso che a quanto ho compreso non è una mia competenza ma diciamo ovviamente non faccio un altro mestiere quindi leggo diciamo così anche i quotidiani e da quanto ho appreso la società sportiva Palermo Calcio che ha la possibilità di tenere allo stadio una serie di eventi purché lo comunichi e lo concordi con l'amministrazione ha saltato questo passaggio nel senso che lo ha posposto rispetto all'ok dato agli organizzatori quindi si è creato questo malinteso che immagino sarà avendo abbondantemente diciamo tempo sono sette mesi da qui al giugno alla data individata per giugno che immagino ci sarà tutto il tempo di sanare con una anche in quel caso conferenza dei servizi probabilmente con la Palermo Calcio peraltro al di là del tema che è formale burocratico importante chiaramente non sfuggirà a nessuno che realizzare un evento a Palermo come il concerto di Vasco Rossi significa avere in termini di ricaduta economica sulla città oltre che d'immagine delle opportunità irripetibili nel senso che verranno qui probabilmente fan di Vasco Rossi da tutta l'Italia meridionale certamente dalla Calabria certamente da tutta la Sicilia e quindi io penso a quanto lavoreranno ovviamente i bimbi a quanto lavorano gli alberghi la ristorazione tutto l'indotto che c'è intorno a un evento di questo tipo oltre al fatto che Palermo ritorna a essere al centro dell'attenzione mediatica nazionale e questo noi ci auguriamo che sia soltanto il primo lo dicevo prima il primo di una serie di eventi perché è importante anche per dare respiro al palermitano oltre che a tutto quello che è sarà quanto meno il secondo visto il concetto di vendita dei regori che c'è stato ad agosto di quest'anno al verdura una domanda su questa cosa sul discorso del concetto di Vascorsi un po' specifica magari si discuterà all'interno di questa conferenza di servizi tratto l'assessore Mineo è intervenuto sulla questione dichiarando che appunto c'è stata un'interlocuzione che appunto si avvieranno tavoli successivi la domanda è ovviamente diciamo dall'evento il comune avrà un ritorno in quanto proprietario dell'impianto nel senso è previsto un introito per il comune magari da reinvestire anche in future iniziative guardi per quello che ne so io ripeto potrei anche dire una sciocchezza per questo mi tengo abbottonato per non dire cose che non sono però per quello che so io la convenzione tra la società sportiva calcio palermo e il comune di palermo prevede che la società si faccia carico di una serie di di opere di come si dice di manutenzione ordinaria eccetera che l'amministrazione non potrebbe pagare quindi il ritorno io non lo so se sarà un ritorno fra virgolette una percentuale sullo sbighettamento o sarà il rifacimento del manterboso dico faccio due due esempi potrebbe non essere un ritorno di antropria prettamente economica ma un ritorno in opere che sono comunque opere che restano alla città perché voi pensate che in due anni che questa amministrazione non ha avuto bilancio lo stadio però ha funzionato lo stesso qualcuno i soldi li ha cacciati ed è stata la società sportiva del palermo quindi intendo dire comunque ci sarà un meccanismo di compensazione che consentirà all'amministrazione comunale di non averne un danno tutt'altro ma di avere il corrispettivo che le tocca poi se sarà una percentuale sui biglietti se saranno opere questo non lo so perché ripeto non è materia mia il tempo comincia ad essere a scarseggiare però andiamo dritti verso competenze più specifiche abbiamo parlato del Natale magari facciamo un accenno anche al Capodanno se possiamo e poi io direi anche avete già cominciato a pensare a quello che sarà non dico l'estate ma i mesi successivi gli eventi culturali di cui Palermo ha sete bene sì Capodanno lo saprete a brevissimo Capodanno ci sarà ovviamente attendiamo l'approvazione del bilancio Capodanno ci sarà ci sarà il 31 a piazza Politeama ci sarà un evento con artisti diciamo di fama nazionale e sarà un evento certamente percepito positivamente dal pubblico ci sarà molta sicilianità e molta palermitanità quindi posso posso dire solo questo ma entro due giorni credo che giocheremo a carte scoperte e quindi noi abbiamo previsto una serie di eventi che partono dall'immacolata ma termineranno dopo l'epifania cioè l'8 gennaio faremo una conferenza stampa specifica su questo per l'estate noi prevediamo come ho detto prima di valorizzare Santa Rosalia e quindi una serie di eventi che ci portino al festino in cantiere c'è un'idea che dovrà fare i conti con con quello che è con quelli che saranno i bilanci a disposizione però l'idea è un grande festival del mare da tenere a Palermo perché possibilmente a settembre perché Palermo è una città di mare ma come tema non originale espresso da me ma che dà le spalle al mare cioè che non ha mai valorizzato la sua vocazione naturale ecco Palermo quindi può ospitare non soltanto dibattiti convegni workshop sul tema del mare del Mediterraneo in tutte le sue declinazioni ma anche momenti di enogastronomia di arte di cultura di spettacolo ecco vorrei ecco nei miei nei miei progetti c'è un grande festival del mare da fare a Palermo e da riproporre annualmente Pietro ultima domanda che diciamo mi tocca visto il considerato del tempo a disposizione è relativa a una particolare delega che ha l'assessore Cannella a quella dei rapporti con il consiglio comunale diciamo una delega che la porta spesso a sostituire il vice sindaco Carolina Varchi sua collega di partito come si è trovato diciamo nei panni di dover rappresentare magari colleghi che in quel momento magari non c'erano in un consiglio comunale comunque che sta comunque dimostrando di avere un'interlocuzione interna fra maggioranza e opposizione no la smentisco nel senso correggo parzialmente la sua domanda per fortuna Carolina Varchi nella veste di assessore al bilancio è presentissima anche perché sarebbe difficile sostituirla su un tema così tecnico che solo chi ha la delega e quindi maneggia i numeri e i conti quotidianamente può fare io sono stato in aula più volte sia per dei libere che hanno riguardato il sottoscritto e poi sono stato diciamo la mia delega si estrinseca nel mantenere rapporti con i capigruppo insomma con i gruppi consigliari quindi è più una politica è bravo è più un lavoro diplomatico e politico che non è da poco visto diciamo come si è chiusa la scorsa consigliata beh devo dire stiamo partendo meglio oggettivamente stiamo partendo meglio c'è un'opposizione che fa giustamente l'opposizione ma finora l'ha fatto con grande senso di responsabilità nella stragrande maggioranza dei casi e c'è la maggioranza che fa la maggioranza bene il tempo è scaduto anche se avremmo voluto parlare ancora a lungo di tante altre cose ringraziamo l'assessore Cannella per essere stato con noi siamo sicuri che tornerà a trovarci quando ci sarà da parlare di altro grazie a Pietro Minardi che mi ha accompagnato in questa intervista grazie soprattutto a voi che ci avete seguito rinnovo l'appuntamento con il prossimo Talk Sicilia Grazie a tutti